Il pane di tutti i giorni, cotto anche col forno a legna, Farinelli Fresco Market. Sono No, nothing can be done That's all, lie down Keep your breath of me alone That's all, please stay You know all those thinking don't count It's a nightmare You can always hear wake up depression You may have another break But come, no, nothing can be done You may have another break You may have another break You may have another break But come, no, nothing can be done Count some music You can quarantine your room Count some housing You can change it with a broom But come, no, nothing can be done That's all, lie down Keep your breath of me alone That's all, please stay You know all those thinking don't count It's a nightmare You can only stay awake You may have another break But come, no, nothing can be done 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 C'è stata qualche polemica Nell'avvio di manifestazione Per il vostro sciapitone Sì, abbiamo ricevuto delle critiche Per il montaggio dello sciapitone in piazza Sulis Soprattutto per, diciamo, i buchi che sono stati fatti per ancorare lo sciapitone e la pavimentazione Abbiamo risposto Sono stati fatti dei buchi di 12 mm di diametro A profondi 8-10 cm Abbiamo seguito le indicazioni dei tecnici del comune Molto collaborativi Anzi, col valo creazione per ringraziare in particolar modo L'ingegner Saglioni e Alberto Doppi Che ci hanno dato un grandissimo supporto tecnico Abbiamo orientato lo sciapitò in maniera tale da rispettare quello che sta sotto piazza Sulis Ricordando che piazza Sulis è stata costruita e progettata Proprio pensando ad iniziative come la nostra Non c'è stata deturbazione della pavimentazione E tutto verrà ripristinato da un tecnico professionista Quando smonteremo il pendone E messe da parte le polemiche Ora è grande spettacolo L'abbiamo visto già adesso fin dall'anno sopra Sì, abbiamo ospiti ad Alghero per la prima volta in Sardegna È una delle compagnie circensi più importanti d'Italia È una compagnia che si chiama appunto Circo Panico Viaggiano in carovana come i circhi di una volta Alloggiano ad Alghero in campeggio E animeranno la città ininterrottamente da oggi fino al 29 di settembre Sono musicisti, acrobati, grandi professionisti Sono artisti apprezzati in tutto il mondo Viaggiano in tutto il mondo E noi li abbiamo portati per la prima volta ad Alghero Credo che sia un'occasione davvero importante per la nostra città Chiudiamo dando un appuntamento importante per la città Domani alle 17 Domani alle 17 abbiamo organizzato una tavola rotonda Una conferenza di confronto sul tema Il Mediterraneo si fa teatro I festival come ponti per la cultura Tra Sicilia, Sardegna e Catalogna Il Mamatita Festival gode del patrocinio della città di Palermo Capitale della cultura 2018 Quindi abbiamo deciso di invitare anche Massimo Mancini Il direttore artistico del teatro stabile di Sardegna Sardegna Teatro che sta curando il progetto nuoro Capitale della cultura 2020 Insieme a loro, insieme ai ragazzi del Circo Panico E a tutti gli operatori culturali che lavorano ad Alghero E ad altri ci sarà anche il sindaco Mario Bruno E i rappresentanti della Fondazione Meta Rifletteremo insieme sulla possibilità di creare un festival Che oltre la città si fa teatro Sia proprio un festival diffuso nel Mediterraneo Che permetta agli artisti di viaggiare in maniera agile Portando arte e creatività in tutto il mondo Capitale如果你 insieme alla Gina E per vari trainer si era für le cari in maniera igen Grazie a tutti Kalam Papen Eman Gaudrier Eman Eman Gaudrier Eman Gaudrier www.alguero.com www.alguero.com